Amici miei, sono qui a presentarvi uno dei grattacieli più amati, l'Empire State Building. Un grattacielo, da come potete vedere, in stile Art Deco. Questo grattacielo, tra il 1931 e il 1967, era il grattacielo più alto del mondo. Successivamente, poi, prima delle costruzioni delle torri gemelle, era il grattacielo più alto di New York. È 443 metri d'altezza, 102 piani, è uno dei simboli di New York e nel 1981 è divenuto monumento nazionale. Come vi ho detto, prima della costruzione delle torri gemelle, era al primo posto. Quando poi c'è stato l'attentato, è ritornato ad assumere questo primato, fino al 2014, quando è stato inaugurato il One World Trade Center.